C'è tempo fino alle 12 di venerdì 9 settembre per presentare all'ufficio protocollo del comune di Muggia le domande per il servizio di vigilanza davanti alle scuole. Tornano dunque i nonni paletta anche nella cittadina riverasca per l'anno scolastico 2022-2023. I moduli per presentare la domanda potranno essere ritirati nella sede del corpo della polizia locale di Muggia in piazza della Repubblica 4 ma anche presso l'ufficio relazioni con il pubblico in piazza Marconi 1 oppure scaricandoli dal sito ufficiale del comune di Muggia. Per diventare nonni paletta bisogna essere pensionati o disoccupati ed avere un'età compresa fra i 50 e i 70 anni alla data del 10 giugno 2023. Compatibilmente con le risorse economiche a bilancio gli incarichi saranno affidati dopo la valutazione dei titoli da parte di una commissione apposita e dopo l'accertamento dell'idoneità psicofisica e del godimento del requisito di buona condotta morale e civile degli aspiranti.